Il Vittoria Colonna è pronto ad una nuova vita. Nei giorni scorsi il sindaco Seri e il suo vicefanesi hanno avuto un incontro per definire il futuro della struttura nella quale si pensa di realizzare residenze di pregio per la terza età con una serie di servizi collettivi studiati appositamente per gli anziani. Le fasi progettuali sono state avviate, ha riferito il primo cittadino, e dentro giugno tutti i locali verranno bonificati e sigillati così da evitare accessi abusivi all'interno del complesso. Ci è stato presentato un progetto di fattibilità, ha proseguito Seri, e dentro aprile InVimit realizzerà dei rilievi sugli immobili a cui seguirà una successiva verifica di fattibilità tecnica. Quelle che vengono ipotizzate sono residenze moderne, tecnologiche, con elevati standard innovativi e con tutti i comfort sotto il profilo medico rivolti agli over 65. Intanto c'è un'operazione, un'attenzione forte da mesi, dove avete visto anche interventi con una presenza significativa e costante sia della nostra polizia municipale, sia delle forze di polizia. Fra l'altro c'è anche una condivisione, quindi è tutto monitorato anche alla cittadinanza con la quale dialoghiamo, dove registriamo anche le osservazioni che ci sono. C'è la massima attenzione, ripeto, ci sono stati vari interventi, ma oggi stesso fra l'altro ho avuto un incontro con InVimit, con la proprietà. Fra l'altro avevo già fatto delle diffide per alcuni interventi che devono fare. Si è concordato una serie di interventi drastici, importanti, anche di sgombero di tutta una serie di materiale che verrà effettuato, ma poi comunicherò in seguito tutti i passaggi che non riguardano soltanto l'immediato, ma riguardano, e questo è un elemento importante, anche alla valorizzazione, dove posso anticipare, fra l'altro, che ci sono anche già un progetto di fattibilità di livello 1 su quell'immobile. Quindi stiamo facendo passi in avanti, ma vorrei tranquillizzare, facciamo il nostro dovere, siamo sul pezzo, come l'abbiamo sempre fatto, sulle situazioni di criticità. Anzi, voglio anche ringraziare la nostra polizia municipale per il lavoro costante che ha fatto in questi mesi, la polizia, le forze dell'ordine che sono intervenute, con la quale siamo, come sempre, in contatto e coordiniamo le cose.